Ancora una convocazione per i giovani allievi del Tennis Club Schacca Club School, che sono stati convocati e hanno partecipato al quinto raduno proposto dal Centro di Aggregazione Provinciale di Egrigento, che riunisce i migliori atleti del territorio. Gabriele Pagano, Calogero Liotta e Giada Sclafani sono stati convocati ed accompagnati dall'istruttore e giocatore Domenico Caracappa, prendendo parte allo stage proposto dal maestro Giancarlo Giuliana. E passiamo al torneo Under 12 femminile. Sempre per il Tennis Club Schacca, presieduto da Vincenzo Sclafani, bella affermazione per la giovane Alice Sclafani, che ha espugnato Partinico, aggiudicandosi il primo trofeo dell'anno. Alice Sclafani in finale ha battuto Giuditta Cocco con il punteggio di 6-4-6-3. Sclafani sta seguendo un percorso di crescita presso il Cina Tennis Institute, curata dal tecnico Luigi Brancato e viene anche eseguita ovviamente dall'istruttore Domenico Caracappa. La prova del circuito vinta permette ad Alice Sclafani di qualificarsi ai campionati italiani di categoria. Tennis Club Schacca, che è in reduce dagli ottimi risultati nel campionato nazionale di Serie C maschile. E passiamo a Passione Tennis Schacca, sodalizio presieduto da David Emmi. Tornano le domeniche di passione e divertimento all'insegna dello sport, socializzazione e condivisione. Qualche giorno fa sono cominciati i campionati di Serie D1 di tennis e, novità di quest'anno, una squadra agonistica di padel prende parte alla prima edizione del campionato a squadre Fitbra, denominato Coppa Italia Padel, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis. Tutte le squadre sono composte da giocatori locali ed appartenenti all'associazione Passione Tennis. Nei rispettivi campionati entrambe le squadre hanno esordito e fatto visita al centro sportivo a città dei tempi di Agrigento del presidente Platania, sconfitta nel tennis dai ragazzi della Serie D1 contro i forti giocatori agrigentini, con squadra guidata da Mauro Tirnetta e che ha registrato il debutto del giovanissimo Filippo Puccio, proveniente dalla relativa scuola tennis diretta dal maestro Nino Armenio. Vittoria invece della squadra di padel contro avversari di indubbio valore, una squadra che si allena insieme soltanto da pochi mesi. Successivamente, per il tennis, Passione Sciacca ha superato per 4-0 la squadra di Siracusa, con le vittorie nei singolari di Tirnetta, Armenio, Di Puccio, che ha vinto la sua prima partita in D1 a soli 12 anni, e vittoria pure nel doppio, composto da Armenio e Marretta. Grazie a tutti.